ciao a tutti sono francesco siamo alla giostra di cervia posto incantevole incredibilmente bello unico nel suo genere perché abbiamo il tramonto di fronte unico anche come progetto e come proposta di cucina dal tramonto e dall'aperitivo siamo sempre aperti per la cena e per il dopo cena è un ambiente dove rilassarsi dove stare bene dove godere della meraviglia delle saline e di cervia i piatti che vanno di più decisamente i crudi presentiamo il crudo completamente pulito e senza nasconderlo con vinaigretto coprirlo comunque con condimenti abbiniamo delle salse che facciamo noi con la frutta fresca in modo che uno possa giocare un po' con i sapori è nel concetto della giostra il gioco con il cibo infatti ci chiamiamo la giostra luna park enogastronomico perché l'idea è quella di giocare con il cibo gli spiedini di gambero e pasta cataifi sulla salsa agrodolce sono un super classico i ravioli ripieni di burrata che saltiamo con la capa santa sopra mettiamo la pesca fresca in uscita polpo di santo spirito quindi un polpo pescato in sicilia con un emulsione fatta dalla sua acqua e una piccola catalana di verdure ho avuto la fortuna di assaggiarlo oggi ed è proprio il sapore del mare assolutamente